Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti agli Offwear Winter Games. Nella prima squadra abbiamo le sciatrici, ammirate in tutto il mondo, hanno conquistato le montagne di Niseko, Aspen e St. Moritz. Auguriamo loro la miglior fortuna oggi. Nella prossima squadra abbiamo le campionesse di Ciaspole. Devono sopportare lunghe distanze in neve fresca, anche in presenza di Slavina e Buffere. Rendeteci orgogliosi e la prossima squadra è composta da bombiste. Sono note per il loro carattere impavido, cavalcando le piste ad alta velocità. Che fantastica, grande squadra. E ora un intermezzo. Il club delle C-Leader locale ha preparato una coreografia per scaldare gli animi a tutte le squadre in gare. Guardatele come vibrano, incredibile. Forza ragazze, emozionateci. Bene, continuiamo. La prossima squadra è quella delle magiche pattinatrici sul ghiaccio. Due parole le definiscono. Equilibrio e grazia. Buona fortuna, come ultime. Le scalatrici alpine, impavide, coraggiose ed avventoliere. vivono per l'adrenalina di raggiungere vette sempre più alte. I trofei! Che abbiano inizio i giochi! 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 Grazie.